per trovare l'abbinamento perfetto la prima cosa importante è provare provare il vino assieme al formaggio e non dare mai per scontato che un abbinamento funzioni senza aver provato perché il formaggio soprattutto per ogni lotto ha la sua storia per cui potrebbe risultare un abbinamento perfetto con tutti i lotti come un abbinamento scomposto se abbiamo dei lotti che non sono esattamente in linea con gli altri quando abbiamo mangiato il formaggio e poi abbiamo un sorso di vino dovremmo avere per prima cosa una sensazione di gradevolezza e lì abbiamo avuto il primo risultato nel momento in cui riusciamo ad avere una sensazione di persistenza dal lato del vino dal lato del formaggio con la stessa intensità possiamo dire che abbiamo raggiunto l'equilibrio Gourmetpedia is an Italian food encyclopedia made by Gourmet a consortium of Italian producers see you next time